Continuano le ottime offerte promozionali all'Ottica Melina. A soli 50 euro occhiale da vista completo, fino a 100 euro la rottamazione del vecchio occhiale e a soli 170 euro occhiale progressivo. E se non ti abitui, ti regaliamo sia le lenti da lontano sia quelle da vicino. In omaggio avrai inoltre o la montatura o le lenti. Vieni a trovarci, troveremo la soluzione più adatta a te. Ottica Melina la puoi trovare in piazza Serravalle numero 5 Catanzaro. Ottica Melina è rivenditore autorizzato lenti transition. Presidente Maseri, tra cinque giorni la Stur partiera per Rimini. Una grande soddisfazione presentata questa mattina insieme alla Presidente Ferro e alla Regione Calabria. Noi abbiamo detto prima in conferenza stampa, la soddisfazione non è tanto quella che pur grande di arrivare a Rimini con una squadra catanzarese che per la prima volta, calabrese, per la prima volta fa questo torneo. E' un raggiungimento di un obiettivo che parte da lontano. Questo è un obiettivo che ci eravamo prefissati nell'otempore quando cominciamo ad investire sui giovani. E questi sono gli stessi giovani che già hanno avuto la soddisfazione di giocare le fasi finali dell'Andre 19 e le fasi finali dell'Andre 21 quando ancora erano più giovani. Commissario Ferro, dal 7 al 9 marzo la Stur sarà a Rimini per il torneo di Coppa Italia. Ma insieme a loro c'era anche la rappresentante della Regione Calabria e della provincia di Catanzaro. Una bella soddisfazione. Una grande soddisfazione che grazie anche al volere dell'assessore Trematerra e dell'assessorato per l'agricoltura della Regione Calabria abbiamo potuto sposare in un'iniziativa che vedrà attraverso la DEC Cup 2014 la Planet Basket, una squadra che ha regalato tante soddisfazioni alla nostra provincia e soprattutto alla nostra città la possibilità di partecipare a questo campionato. Un mix che vedrà ovviamente il turismo sportivo, che vedrà il connubio con i prodotti locali di maggiore ovviamente peculiarità come l'arancia, gli agrumi, i limoni e partecipare alla fiera della musica, un mix tra cultura e musica. Ovviamente proietteremo anche il filmato che abbiamo preparato per la bit di Milano sulle identità provinciali. L'agurio che questa squadra possa avere sempre maggiori risultati. Un grazie di vero cuore a tutta la dirigenza, al presidente Masciai e auspichiamo ovviamente di poter sempre trovare dei compagni di viaggio come l'assessore Trematellara che comprendono l'importanza dello sport.